Prime Rent è una società che si occupa di noleggio breve e medio termine di vetture di alta gamma. È sul mercato da più di 15 anni. La caratteristica del servizio è di avere vetture in pronta consegna con allestimenti importanti, sempre rinnovate e la consegna a domicilio ovunque il cliente lo richieda in tutta Europa. È cresciuta nel tempo con il turismo dall'estero ma negli ultimi anni ha sviluppato in anticipo rispetto alla tendenza comune del mercato il prodotto medio termine che è un noleggio sulla falsariga dello short term molto flessibile di accesso immediato e che in un contesto del genere si adatta particolarmente alla figura dei fleet manager provenienti da grosse aziende nazionali. In questo senso disporre di vetture in pronta consegna immediate permette alla Prime Rent di soddisfare esigenze per i fleet manager di spesso critiche per l'alta dirigenza. In questo senso cerchiamo di farci conoscere, di proporci come partner per loro nella cooperatività quotidiana. L'azienda ha un parco auto ad oggi di 300 vetture circa, dei maggiori brand da Audi, BMW, Mercedes, Land Rover e Porsche. La compagine sociale è di imprenditori italiani che anche in un periodo come quello del lockdown hanno avuto il coraggio di investire e di continuare a investire. Questo ha permesso di soddisfare la domanda del noleggio, di avere un parco auto ancora nuovo e caratterizzato da allestimenti importanti anche in questo periodo di notevole crisi produttiva. Abbiamo le auto, ne vorremmo chiaramente avere di più, ne avremo esigenze di più, però sì, abbiamo risentito di questo problema di produzione, ma non come altre realtà.